Vabbè, teniamo buona questa. No, perché la gente poi non ci crede che ti imponga, non fa sapere che ti imponga una volta. Oh, ce la abbiamo fatto. E vede che Davide Santoni fa. Questo con il nuovo look, vedi che look che si è fatto. Sai che non l'avevo visto io, onestamente non l'avevo ancora visto. Ma gliel'ha fatto lei? Eh? Gliel'ha fatto lei? La parte centrale. Ah, ok. Io vado solo la parte, e lui il resto... So che a volte succede che il più giovane soprattutto viene preso alla sprovvista e gli vengono tagliati i cappelli quasi... Ma magari, un tempo era una cosa... Eh sì, cose divertenti. Magari lo facessero. Perché visto dal davanti non si capisce molto. Visto da dietro purtroppo... Sembra Billy Idol, in un determinato periodo della sua carriera. Anche il cantante degli Stray Cats. E a proposito, diamo altri due suggerimenti a Tarantella. Billy Idol e Stray Cats. Esatto. Faccia lei ciò che crede. Se li conosce le porticine. Sposta le porticine e non lo fa fare il regalo. C'è un po' vedere un'altra volta. Potrebbe... Potremmo usarlo come sigla, eh? La teniamo lì. Ha dei piatti un po' oblicu. La metà tra la perfisione... Ma vanno a vedere le virgole. Ma certo. Abbiamo una bella rubata...